Sicuramente è importante creare un seguito anche più giovane per quanto riguarda la nostra squadra ed è comunque importante trasmettere i valori che la Palacanestro porta con sé in campo, fuori dal campo, nel senso di comunità, di squadra, il lavoro di squadra, i sacrifici, il lavoro per un obiettivo comune. Sono valori che vanno inculcati alle nuove generazioni. Bello, bello perché è importante soprattutto perché anche io sono stato come loro non molto tempo fa e mi ricordo che alla fine magari iniziamo gli appuntamenti con un po' di pasta, con un po' di... ero un po' noiosi, pensavo fossero noiosi e non interessanti. In realtà alla fine è un modo per divertirsi insieme, per far capire quello che facciamo tutti i giorni e credo che l'abbiano capito anche perché si stanno divertendo, quindi vado a giocare.